Un'equazione lineare in seno e coseno si presenta, o è possibile ricondurla, in questa forma. Studieremo le equazioni complete, nelle quali il termine c è diverso da zero. Le incomplete, che hanno appunto c uguale a zero, sono di più semplice risoluzione. Il metodo consiste nel mettere a sistema l'equazione lineare con quella fondamentale della goniometria. Poi si opera una sostituzione, sfruttando il significato di seno e coseno. Sappiamo che il seno corrisponde all'ordinata, la y, del punto che individua l'angolo sulla circonferenza goniometrica, mentre il coseno corrisponde alla scissa, la x. Allora si sostituisce al seno di x, la y, e al coseno di x, la x. Si indicano con le lettere maiuscole per non confondere le due x, che hanno significati diversi. Dopo la sostituzione si ottiene questo sistema. Dal punto di vista geometrico, la prima è l'equazione di una retta, mentre la seconda è l'equazione della circonferenza goniometrica. Le soluzioni del sistema saranno gli eventuali punti di intersezione tra retta e circonferenza. Possono presentarsi tre casi, a seconda delle posizioni reciproche tra retta e circonferenza. La retta può essere esterna alla circonferenza, e allora il sistema non avrà soluzioni e di conseguenza neanche l'equazione goniometrica. La retta può essere tangente alla circonferenza. Il sistema ha una soluzione soltanto, data dalla coppia di valori x e y maiuscoli, che individuano un punto sulla circonferenza goniometrica. Questo punto, a sua volta, individua sulla circonferenza un angolo alfa, unica soluzione dell'equazione goniometrica. Notiamo che alla soluzione alfa si aggiunge il periodo 2kpy. Questo perché le soluzioni si cercano su un intervallo compreso tra 0 e 2py, e poi devono essere estese per periodicità. L'ultimo caso è quello in cui la retta è seccante, e incontra la circonferenza in due punti, le cui coordinate sono le soluzioni del sistema. Questi due punti individuano due angoli, alfa e beta, che sono le soluzioni dell'equazione goniometrica. Abbandono alle chiacchiere e vediamo subito come si applica il metodo in pratica. Nel primo esercizio l'equazione non è in forma normale. Allora facciamo un semplice passaggio, portare tutto a primo membro, per arrivare a questa forma. Ricordiamo ora le formule che dobbiamo applicare, e soprattutto la sostituzione. Impostiamo il sistema e risolviamolo per trovarne le soluzioni. È un sistema di secondo grado, che si risolve ricavando un'incognita dall'equazione di primo grado, e poi sostituendola nell'altra equazione. Si otterrà un'equazione di secondo grado in una sola incognita, che potrà avere, a seconda del valore del delta, nessuna, una o due soluzioni. In questo caso possiamo ricavare la x dalla prima equazione, ottenendo x uguale 3y meno 3. Sostituiamo poi nella seconda equazione, che ora è nella sola variabile y. Svolgiamo il quadrato, e intanto trasportiamo l'uno a primo membro, cambiandolo di segno. Facciamo le operazioni tra termini simili, e poiché tutti i termini che otteniamo sono pari, dividiamo tutto per due per semplificare. Abbiamo ottenuto un'equazione di secondo grado in forma normale, che possiamo risolvere con i metodi classici. Non ci soffermeremo sulla risoluzione delle equazioni di secondo grado, ma vi lascio il link in descrizione ad un mio video che tratta proprio questo argomento. Risolvendo, otteniamo y uguale 1 e y uguale 4 quinti. Questi valori, sostituiti nell'espressione della x, ci danno le coppie soluzione di questo sistema. Come abbiamo detto all'inizio, queste coppie sono le coordinate dei punti che individuano sulla circonferenza gli angoli soluzione dell'equazione goniometrica. Vediamo come trovarli. Data la circonferenza goniometrica, dobbiamo individuare i punti P1 e P2, di cui conosciamo le coordinate. P1 sarà questo punto, di coordinate 0,1, e P2 questo punto. Possiamo anche disegnare la retta, che è secante alla circonferenza proprio in P1 e P2. Questi due punti individuano due angoli, che sono appunto le soluzioni dell'equazione goniometrica. Per ricavarli, dobbiamo ricordare i valori delle funzioni goniometriche, ricordando che il seno dell'angolo corrisponde alla coordinata y e il coseno alla coordinata x. Al punto P1 corrisponde l'angolo segnato in blu, che come possiamo vedere è di 90 gradi. A 90 gradi il seno vale 1 e il coseno 0. In radianti si esprime come pi greca mezzi. Al punto P2 invece corrisponde un angolo non fondamentale, e quindi lo dobbiamo esprimere usando una delle funzioni goniometriche inverse. Capita spesso, risolvendo questo tipo di esercizi, di ottenere angoli non fondamentali. A P2 allora corrisponderà l'arco coseno di meno 3 quinti, cioè l'arco il cui coseno è meno 3 quinti. Trovati gli angoli, possiamo esprimere le soluzioni in funzione di x, ricordando di aggiungere la periodicità di 2k pi greco. Queste sono le soluzioni dell'equazione goniometrica. Nel secondo esercizio l'equazione è già in forma normale. Allora ricordiamo le formule e impostiamo il sistema per cercarne le soluzioni. Ci conviene ricavare la y dalla prima equazione, ottenendo y uguale meno 1 meno 2x. Ora sostituiamo nella seconda per trovare un'espressione nella sola x. Sviluppiamo il quadrato del binomio, ricordando che tutti i termini saranno positivi, e portiamo l'uno a primo membro cambiandolo di segno. Adesso semplifichiamo gli 1, perché opposti tra loro. Facendo le operazioni tra termini simili, otteniamo questa espressione, che è quella di un'equazione di secondo grado spuglia, mancante del termine noto. La possiamo risolvere raccogliendo la x e poi sfruttando la legge di annullamento del prodotto. Otteniamo due soluzioni, x uguale 0 e x uguale meno 4 quinti. Sostituendole nella prima equazione, troviamo anche i valori della y, che ci danno le coppie che risolvono questo sistema. Spostiamoci ora sulla circonferenza goniometrica. Ricordiamo che le coppie soluzione del sistema corrispondono a due punti, che dobbiamo individuare sulla circonferenza. Segniamo allora il punto P1 e il punto P2, sfruttando le coordinate che abbiamo ricavato. Per questi due punti passa la retta secante alla circonferenza. Ricordiamo che la circonferenza goniometrica ha raggio 1, e questo ci permette di avere un riferimento per sistemare le coordinate. I due punti individuano gli angoli che saranno la soluzione dell'equazione goniometrica. Il punto P1, di coordinate 0 e meno 1, corrisponde all'angolo tre mezzi pi greca, o 270 gradi. Di solito, però, si preferisce riportare le soluzioni limitando gli angoli in un intervallo fra meno pi greca e pi greca. Come facciamo in questo caso? Semplicemente, se l'angolo è minore di 180 gradi, manteniamo lo stesso risultato. Se supera i 180 gradi, sottraiamo a 360 questo valore, mettendo poi un meno davanti. In questo caso abbiamo 270. 360 meno 270 è uguale a 90, cioè pi greca mezzi. Allora potremmo esprimere tre mezzi pi greca anche come meno pi greca mezzi. Infatti, ci si ferma nella coordinata che individua l'angolo di 270 gradi, percorrendo di 90 gradi la circonferenza in senso inverso. Per il secondo angolo, minore di 180, vale il discorso che abbiamo fatto anche prima. Poiché le sue coordinate non sono quelle di particolari angoli, lo dobbiamo esprimere con le funzioni goniometriche inverse. E allora avremo beta uguale arco coseno di meno 4 quinti. Trovati gli angoli soluzione, possiamo esprimere le soluzioni in funzione di x ricordando di aggiungere la periodicità. Vediamo il terzo esercizio. Ricordiamo le sostituzioni da fare e poi impostiamo il sistema e andiamo in cerca della soluzione. Ricaviamo y dalla prima equazione e sostituiamo questo valore nella seconda, ottenendo un'equazione nella sola x. Svolgiamo il quadrato e portiamo l'uno a primo membro, cambiandolo di segno. Facendo le operazioni tra termini simili, otteniamo questa espressione, che possiamo semplificare dividendo tutto per due, perché tutti i suoi termini sono pari. Trovata la forma normale dell'equazione di secondo grado, cerchiamo nelle soluzioni. In questo caso, andando a calcolare il delta, otteniamo un valore negativo, meno 7. Cosa vuol dire? Vuol dire, dal punto di vista geometrico, che retta e circonferenza non si incontrano, quindi la retta è esterna alla circonferenza. Il sistema allora non avrà soluzioni e di conseguenza non ne avrà neanche l'equazione goniometrica di partenza. Vediamo il quarto esercizio. Come al solito, ricordiamo le formule e poi impostiamo il sistema, andando in cerca delle soluzioni. Ci conviene dalla prima equazione ricavare la x. Sostituiamo poi nella seconda ricavando un'espressione nella sola y. Facciamo il quadrato di binomio e intanto portiamo l'uno a primo membro cambiandolo di segno. Semplifichiamo gli uno perché opposti tra loro e poi facciamo le operazioni fra i termini simili, ottenendo questo risultato. È un'equazione di secondo grado spuria, mancante del termine noto, che risolviamo con un raccoglimento e sfruttando la legge di annullamento del prodotto. Si ottengono due soluzioni, y uguale 0 e y uguale meno radice di 3 su 2. Sostituendo questi valori nella prima equazione, otteniamo le due coppie di valori soluzione del sistema, che saranno le coordinate dei punti di intersezione tra retta e circonferenza. Individuiamo sulla circonferenza questi due punti. Sono P1 e P2. E poi disegniamo anche la retta che passa per questi due punti, seccante alla circonferenza. Questi due punti andranno ad individuare i due angoli che risolvono l'equazione goniometrica. L'angolo individuato da P1 è facile da trovare, perché si trova all'origine degli angoli, e allora è l'angolo nullo. L'angolo individuato da P2 lo rintracciamo grazie alle sue coordinate. In questo caso troviamo un angolo che possiamo esprimere senza utilizzare le funzioni goniometriche inverse. Infatti, corrisponde ad un angolo di 240 gradi, o 4 terzi pi greca. Come abbiamo detto prima, è più comodo rappresentare le soluzioni in un intervallo che va da meno pi greca a pi greca, quindi da meno 180 gradi a 180 gradi. E allora, come prima, poiché abbiamo superato i 180 gradi, sottraiamo a 360 gradi il valore dell'angolo, quindi sottraiamo a 360, 240. Otteniamo 120, che è esprimibile anche come due terzi pi greca. Aggiungiamo il segno meno per ottenere la rappresentazione dell'angolo in un intervallo da meno pi greca a più pi greca. Trovati i due angoli, possiamo ora scrivere le soluzioni dell'equazione goniometrica, ricordando di aggiungere la periodicità. Grazie per aver visto questo video. Se ti è stato utile, clicca mi piace, iscriviti e commenta se hai un dubbio riguardo a questa lezione. Ci vediamo alla prossima e buono studio.